In fiamme la Cavallerizza di Torino, antico complesso non lontano da Palazzo Reale, dichiarato patrimonio dell'UNESCO. L'incendio che si è sviluppato nelle ex stalle locali che chiamano le Pagliere, dove ci sono dei magazzini, ha coinvolto il tetto dello stabile. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è divampato prima delle 8 del mattino. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino e per mettere in sicurezza la struttura. Ancora incerte le cause dell'incendio e l'entità dei danni.